ciao raga questo è un motore et3 primavera 125 smontato tutto perché era tutto incriccato guardate il pistone tutto spaccato ora si riguarda l'albero la frizione spaccata e ora siamo qui a ripulire tutto questo troiaio guardate qua quanto sarà Fabio? 5, 6, 10 anni 15 anni di roba con un trincetto andiamo piano piano a pulire a sgrossare via dopo una volta sgrossato vada qua la ruggine nell'albero motore vabbè tanto siamo vicosciati intanto puliamo questi come si fa per pulirli si fa col mio amico Fabio qui li mettiamo con il lavaggio vediamo i che vengono fuori che verranno uno dice ma pulisce sto prodotto questo un pulisce sto fischio giustamente stiamo aspetta mi ha trovato la macchina solo il passaggio mi interessano ancora? mi interessano ancora? mi interessano ancora la porta? c'è fissino solo il passaggio ma la tua? no fissino lì si guarda vai 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 Michele si sta facendo i video quando su youtube si ho capito i video quando su youtube ho capito per vedere guarda la sto smerdero dai no 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 ahhh vai aspetta vai no c'è una polo solo il passaggio ragazzi c'è una polo il passaggio di proprietà e basta in vendita vai lasciamo a mollo io faccio i video ma ero in macchina come pulire stiosi lui basta ci prendere i soldi il passaggio lui capito? aspetta ragazzi non mi danno letto sono qui a pulire qui c'hanno tutti furia sono a smontare il motore